Oggi, nelle cattedrali e nei santuari di tutto il mondo, si chiudono le porte della misericordia. Chiediamo la grazia di non chiudere gli occhi davanti a Dio che ci guarda e dinanzi al prossimo che ci interpella. Guardiamo con fiducia al Dio della misericordia, con certezza che la carità non avrà mai fine. Papa Francesco ha concluso così, domenica in San Pietro, l'omelia della messa per il giubileo delle persone escluse, guardando all'anno santo diffuso che in quello stesso giorno si chiudeva nel mondo. E nel pomeriggio, nelle altre tre basiliche papali, i cardinali ercipreti hanno chiuso le porte sante di un giubileo aperto dal Papa Bangui in Centrafrica il 29 novembre 2015 e chiuso in San Pietro questa domenica, nella solennità di Cristo Re dell'Universo. L'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, al quale Francesco ha fidato l'organizzazione del giubileo della misericordia, dal centro di accoglienza dei pellegrini in via della conciliazione traccia per noi un primo bilancio. La misericordia è davvero tornata ad essere il cuore pulsante della vita della Chiesa e da questa prospettiva adesso non solo il giubileo è riuscito, ma la grande sfida è come continuare a vivere della misericordia e ad essere operatori di misericordia. A Roma agli eventi, attraversato la Porta Santa, all'Angelus, sono venuti almeno 21 milioni di pellegrini. Ma questo anche per la prima volta è un giubileo che si è aperto in tutto il mondo. Le porte sante nelle cattedrali, nei santuari hanno consentito a milioni e milioni di persone di vivere intensamente questa esperienza giubilare. Fuori in via della conciliazione un piccolo gruppo di pellegrini sfila dietro una croce di legno lungo il percorso riservato che è stato percepito come un segno di preghiera e pellegrinaggio. Milioni di persone hanno attraversato quel percorso portando la croce giubilare e hanno dato alla città, hanno dato ai turisti, a quanti erano presenti i milioni di turisti presenti in via della conciliazione, hanno dato il segno che anche nel caos della città si può pregare e si può vivere il giubileo come un'esperienza spirituale. Poi però non possiamo neppure dimenticare penso alla muraglia di persone che ha accolto le reliquie di padre Pio e di padre Leopoldo. Certamente non posso dimenticare il giubileo dei carcerati dove per la prima volta più di mille detenuti hanno vissuto da protagonisti, hanno servito la messa al Papa, hanno fatto le letture in San Pietro e così anche tante persone socialmente escluse, senza una casa, senza un tetto, i disabili. Per la prima volta disabili mentali hanno visto sul Sagato di San Pietro mimare il Vangelo perché lo potessero capire nel loro linguaggio. Sono una serie di fatti che non fanno altro che dare i volti attraverso i quali la misericordia si è espressa. Un signor Fisichella ha negli occhi e nel cuore tutti i gesti straordinari di Papa Francesco in questo anno santo che sono stati esempi importanti per le chiese locali. La visita al campo profughi dell'isola di Lesbo e il ritorno con un gruppo di rifugiati in aereo ha spronato tante parrocchie ad accogliere i migranti. Immagini di Papa Francesco nella sua semplicità, penso ad esempio ai venerdì della misericordia, sono immagini che hanno fatto il giro del mondo e da qualsiasi parte sono stati recepiti come dei segni che nella semplicità, nell'essenzialità hanno però dato il volto reale del servo della misericordia. Io sono sicuro che questo anno santo della misericordia non può essere considerato come una parentesi nella vita della Chiesa e penso che il Papa darà anche alla Chiesa delle linee concrete per poter vivere e continuare a vivere l'entusiasmo con il quale si è vissuto questo giubileo.